Era in uno stranissimo ufficio in cui all'interno il mio obiettivo era spaccare degli oggetti All'inizio sembrava tutto normale ma man mano che spaccavo gli oggetti inizia a trovare delle strane anomalie Man mano che andavo avanti a trovare anomalie tutto diventava sempre più strano e più corrotto Non mi potevo neanche immaginare dove ero andato a finire Ragazzi vedete questo martellone che abbiamo nelle nostre mani? Ecco in questo posto in questo posto di lavoro in questo ufficio qualunque cosa sia Questi oggetti potrebbero sembrare normali ma alcuni di questi sono delle strane creature E noi dobbiamo spaccare tutti questi oggetti per trovare le creature Non possiamo lasciare nemmeno una Ecco io ve l'ho detto qui dentro ci sono delle strane creature che si nascondono in oggetti Come avete potuto vedere sembrava una sedia normalissima Ma dall'interno sono strane budella sangue dappertutto No ok dobbiamo non possiamo lasciarle così Dobbiamo trovarle Dobbiamo mandarle via Dobbiamo scacciarle via Eh questa sedia non è Andiamo qui dentro Qui dentro Si 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 Spacchiamo tutto Spacchiamo tutte le sedie I vasi Le sedie Eccone un altro Eccone un altro Abbiamo trovato Si provava a nascondere una sedia eh Provava a diventare una sedia Ma non sa che noi con il nostro martellozzo Spacchiamo tutto Tutti gli uffici Spacchiamo tutti i computer Tutte le sedie Nessuno può scappare da noi Noi siamo troppo potenti Pam Spacchiamo Spacchiamo questo Spacchiamo questa stampatrice Non so cosa sia questo Cassetto Questi monitor Vecchi anni 90 Spacchiamo tutto Si può andare Questo è indistruttibile Non si può andare di qua Qua si può andare Ecco qua che spacchiamo tutto Spacchiamo questi cassetti Non possiamo mai sapere Dove si nasconde Eccone un altro Di nuovo Nascosto come una sedia Questi birbanti Ho visto che gli piace nascondersi come sedie Però le sedie saranno La mia mira principale Altre sedie Sedie bruttissime Oh porca miseria Ora è diventato un frigo Ok Un frigo Non ci importa Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Non facciamo pietà per nessuno Non avremo pietà di nessun mobile Spaccheremo tutto Computer Sedie Sedie Computer Scrivania Cestini Spacchiamo tutto Non ci importa Spacchiamo tutto Che cosa è stato questo rumore? Non lo so Non ci importa Comunque noi spacchiamo finestre pure Spacchiamo tutto Ci buttiamo giù dalla finestra Se non le troviamo Ci buttiamo giù dalla finestra Non vuoi spaccare Spacco i vasi Spacco tutto Non mi importa Non mi importa di niente nessuno Io spacco Hulk spacca Io sono Hulk spacca Spacco le finestre Anche se non si devono spaccare Ma a me non mi importa Qua tavola rotonda Tavola dei gremlins Che cosa ho appena detto Non lo so Questo gioco mi sta dando la testa ragazzi Questo gioco spaccando Tutte queste cose Mi sta dando la testa Non so Non sto Sto impazzendo Devo trovare l'ultimo Dove cavolo si nasconde l'ultimo Burfantello Lo devo trovare Non può scappare da me Non può scappare da me Spacchiamo tutto Cos'è che non mi ha spaccato questa sedia Ah Chi è questo brutto uomo Ritorna all'ascensore Così che tu possa fare questo di nuovo Perché dovrei fidarmi di uno Con questa faccia Va bene Va bene Ritorno Ritorno Sei tranquillo Ritorno Ritorno Sei tranquillo E quindi noi ritorniamo Eccoci qua Di nuovo qua Nell'ascensore Apri porta Se no spacco tutto qua Pallo di nuovo Però meglio Che cosa intendi meglio C'ho 90 secondi Ok Ci devi ricordare tutte le posizioni Questo era uno Ok 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 Poi c'era Questo qua Spam Spaccato Poi c'era il frigo Il frigo il frigo il frigo Esattamente Non qua Non era qua Non era qua Non era qua Dov'è il frigo Non me lo ricordo Non mi ricordo dove era il frigo Ragazzi dove era questo frigo Qui dentro No Qui dentro forse Si qua Era qui Pam Pam Ci manca l'ultimo E mi ricordo dov'è Probabilmente mi ricordo dov'è Era qui Era qui nascosto Qui Spaccato Ritorno all'ascensore Perché ancora Io ho già spaccato tutti Perché dovrei farlo di nuovo Un'altra volta Non ha senso Questo qua ci vuole sfruttare Ci vuole sfruttare Ancora qua Siamo ritornati qua All'ascensore Che cosa vuoi ora Nessuno Perda di tempo Fai il tuo lavoro Ok dove siamo Dove siamo spawnati Non è la stessa cosa di prima Non abbiamo neanche troppo tempo Abbiamo pochissimo tempo Dobbiamo muoverci Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Sprovato Non ho trovato Non dobbiamo farcele scappare nessuno Qui Qui dentro La sedia No La lampada Niente Il monitor No Spacchiamo tutto Qui forse Scrivania Sedia Questo Questo No 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 Niente Non riesco a trovarli Sono troppo nascosti Ci mancano solo 56 secondi Eccolo qua Un altro trovato Non provano dolore Ok Se non provano dolore Allora siamo un po' più felici Dai Sappiamo di non far troppo male Ma per favore Devo trovare gli ultimi tre Ma non riesco a trovarli Sono troppo nascosti Si nascondono troppo bene Questi cosetti Sono introbabile Quante sedi sono qui dentro Il frigorifero Il frigorifero Il cesso Qua ci faceva un cesso qui Ecco perché non si stanno nascondere bene Non si stanno nascondere Ci mancano 18 secondi Ci mancano ancora roba Ci manca uno Dov'è l'ultimo Dov'è l'ultimo Dov'è l'ultimo Dov'è l'ultimo Ne ha 9 secondi Ne ha 9 secondi Non ce la facciamo Non ce la facciamo ragazzi Non ce la facciamo Spaccati Dov'è l'ultimo No Non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Ok abbiamo ancora una possibilità Ora mi ricordo le posizioni Primo Qui Ed era questa sedia Perfetto Poi C'era qua dentro No Qua dentro non c'era niente Qui dentro Ok un altro trovato Poi ce n'era uno nascosto qua Malissimo Di fianco un cesso Di fianco un Un frigorifero Di fianco un cesso Non è una cosa che si vede tutti i giorni E quindi era facile da trovare Qui Dov'è l'ultimo Dov'è sono gli ultimi due Non mi ricordo Non mi ricordo dove sono gli ultimi due Forse Questo qua Ok Forse si Dai per favore Dai dov'è che si nasconde l'ultimo Non è possibile Dove cavolo è Io lo devo spaccare Non è possibile Non lo trovo Ancora Sto perdendo ancora E qui Qui da qualche parte dai No ancora Non ce l'abbiamo fatta di nuovo ragazzi Non riesco a trovare mai l'ultimo È troppo difficile a trovare Andiamo Ok questa sedia qua Sospetta Esatto Molto sospetta Qui sembra tutto essere normale Qui sembra tutto essere normale Questa sedia qua Sospetta Esatto Una sedia fuori dal coso No 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 Qui Questa sedia qua Sospetta Qui dentro C'è qualcosa? No Tutto normale Qua dentro Tutto normale Qua dentro Tutto normale Una porta davanti a una porta Sospetto È infatti morto Ci manca l'ultima stanza Questa qui Un cesso di fianco a un frigorifero Avete mai visto una cosa del genere voi? Ah Cesso Cessetto Schibritoile Mi sembra il sospetto Ammazza Oh porca miseria Che cosa è diventato? Si ci è voluto molto tempo Più tempo di quanto Mi sono aspettato Ho bisogno che tu lavori più velocemente Ritorno all'ascensore Ma che cosa è diventato? È impazzito C'è tutti i pulbi Che escono fuori Delle sue mani Ok ora lo accontenteremo E lo facciamo Più veloce La geometria di questo piano È diventata unco operativa Che cosa? Che cos'è questo? Oh porca miseria Dove cavolo siamo? È la prima mappa però Al contrario È la prima mappa però Al contrario Che cosa è diventato Sto posto? Porca miseria Non si capisce niente Però questa sedia Sembra sospetta Anche questa Dove cavolo mi trovo? Non capisco niente Non sto capendo niente Non sto capendo assolutamente niente Tutto così strano Qui non si capisce assolutamente niente Ragazzi ma che cosa è diventato sto posto? Questo qua sembra sospetto Ok Eh Manca 43 secondi Io non so cos'altro trovare Qui dentro una di queste stanze Forse Questa sedia forse Esatto Ce l'abbiamo fa... Oh porca miseria Sta impazzendo Sta impazzendo Vai Dove vai? Nell'ascensore? Ancora? Non voglio farlo ancora Sono in questo loop Da troppo tempo Che cosa sta succedendo? Non appare più le news Non appare più l'uomo lì Bruttissimo Che sta impazzendo Che cosa sta succedendo? Oh porca miseria No Questo è difficilissimo No Questo è difficilissimo Ce ne sono due Dobbiamo farli tutte e due Oh porca miseria Questo è troppo difficile Troppo difficile Troppo difficile No 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 Non mi piace Non mi piace affatto Facciamone uno Poi facciamo l'altro magari Ma intanto l'uomo Che cosa è diventato? Che cosa cavolo gli è successo? Vedo un'ombra strana Ok Ora devo fare dall'altra parte Ecco qua Spaccato di qua Poi andiamo di qua Magari c'è qualcosa Un frigo davanti a un cesso No 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 Questo non è normale Oh porca miseria È troppo difficile C'è troppe cose da ricordare Una sedia qua Non sembra molto normale Qui non c'è niente Qui non c'è niente Qui una porta Non c'è una porta No 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 Non è normale Non è normale Cos'altro c'è? Non trovo più niente Mi manca solo 22 secondi Non so cosa fare Non so cosa possa essere L'ultima cosa Non trovo l'ultima roba Non trovo l'ultima roba Non trovo l'ultima roba No non ce l'abbiamo fatta Ok Le abbiamo spaccate 5 da questo lato Ora ci manca l'ultimo lato Questo qua a sinistra Che Porca miseria Ci fa confondere Ci sono troppe cose Qui non c'è niente Non c'è più la sedia Queste due sedie sono sospette Esattamente Sono delle birbantelle Quei mostri strani Stanno prendendo sopravvento Sono troppo difficili da battere Qui dentro Sembra essere tutto normale Vediamo di qua Ci abbiamo 40 secondi Per scovarli Qui c'è un cesso Barabando Ok ci manca l'ultimo Dove posso trovare Quest'ultimo Forse qui in questa stanza Probabilmente in questa stanza Di qua Esatto un frigo Qui cosa ci fa Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oh porca miseria Che cosa è successo Qui dentro Non fumare Non fumare Va bene Tanto non fumo io Tranquilli Oh porca miseria Che cosa è diventato Quest'uomo 67 secondi E' impossibile E' impossibile Non riesco a capire niente Cosa devo fare Non è possibile Non è fattibile Una roba del genere Non è fattibile Cosa devo fare Praticamente mi sta dicendo Che tutte le Le missioni di minato Erano impossibili E non voleva Che le facessi Non preoccuparti Del timer E non è per te Che cosa Sto dicendo cose Stranissime Incapibili Era bello Vivere Che cosa Era be Se solo Avessi avuto Ancora un po' di tempo Oh porca miseria Dove sono finito Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Non ci importa Non ci importa Cosa sono questi Bull di Brufoloni Che cosa sono Che schifo E' schifo Che cosa mi ritrovo a fare Guarda che cosa mi ritrovo a fare L'ascensore Che cosa Dove sono finito Dove sono finito Dove sono finito Cavolo Sono finito Questa succedendo Sento dei brutti rumori Non posso uscire di qua No Sono bloccato qui dentro Chi è che ha aperto la porta Chi è che è entrato Il fantasma Formaggi Si è seduto Sulla sedia Dobbiamo discutere Il risultato Del tuo test Abbiamo un cancro E questo era stato Un sogno Perché mi dice Che tutte le nostre cose Tutti i nostri organi Le nostre ossa Non possono essere operate E quindi Dobbiamo morire Per forza Mi ha detto Di andarmene Non mi Nessuno Gli importerà Della mia morte Se non provo che Non provi che Oh porca miseria Era tutto un sogno Di una persona Con un tumore E quello lì E quello lì Che stava morendo Con tutte le cose strane Era Eravamo noi E quelli col martello Erano I farmaci Che cercavano di Eliminare il cancro Oh porca miseria Una bella storia Una bella storia Va bene ragazzi Spero che questo vi è piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è stato lasciato un like Iscrivetevi al canale Attivate la campagna Per non parlare Nel mio video E noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao Ciao